MADDONNA MEA! Outlast nel 2014 Eh già, proprio così PORCO GESU PORCO Ma perchè? Ma Dio, caro! Nooo! Nooo! Oh mio Dio! Oddio! Nooo! Ciao a tutti, amici... ...o...non amici di YouTube Dov'è? Dov cazzo? OH! Oddio Porca puttana, come cazzo si mette in pausa? Ragazzi un mal di gola vaffanculo a tutto quanto vi voglio bene, io vi amo Siete la mia passione, la mia forza, quelli che mi tengono in vita, quelli che mi danno la forza di andare avanti Vi amo a tutti quanti, davvero Detto questo mettete like Oddio che cazzo di gola ho fatto? Non muore, non muore, che cazzo è? Dai che c'è il n***a che sta morendo, n***a uooo Era puro scopo informativo, cioè informarvi che i social network agli adolescenti fanno molto male Dove sono i miei soldi? Cazzo mi rivolgo Si chiama mamma mia, me la vuoi buttare al culo? Mi sa di si Si c'ha, guarda te sei già qua fai cagare Torna da me, torna nel vuoto No, 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 cosa hai fatto? C'è il ciccione, c'è il ciccione Dai raga, mettetevi in posa Gabri, dio madonna Salute, grazie, prepare yourself No, io ti giuro che è quitto adesso, madonna Calimero Guarda, cos'è Buzz Lightyear sto tipo Signori, osservate attentamente questo oggetto Non dite una parola, state muti e zitti e Svella No, perché ho toccato sto coso Svella Svella Basta bimbi minchia Non posso neanche camperare perché se no mi dite Hehehe XD, se camperi è facile ma va a fa cura Oh mio Dio, cosa cazzo era? Cosa cazzo era? Corri Corri Eeeh vabbè I giovani che inculano Oh 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 Occhio Occhio che cazzo Michael Button mettiti in salto Hendrix Mi sono incastrato, mi sono incastrato, c'è questo che mi guarda male Vabbè Ti sei ammazzato Eh ora non fai più tanto il gradasso eh Eh? Eh? Allora? Cosa stanno cantando? Allora per chi di voi non lo sapesse Oggi siamo qui su Outlast e Sotto c'è una festa di Natale fantastica Stanno cantando di tutto e di più Non gliela prende neanche se vuole No gliela prende neanche se vuole Gli regala il corner Alla faccia GTA Style Ma che cazzo fa? Ma lo prema c'è un problema qui Mi seguono su Instagram Porco il diavolo guarda Andiamo Vai così I crackers ci sono Madonna putta No Anche la storia è figata Che cazzo ho preso? Ecco qui abbiamo un'altra foto di una tipa Cioè è imposa per un calendario Va bene lo stesso Ovviamente La data è 15 dicembre E lei si fa le foto in costume da bagno Per forza È sparito La musichetta non c'era Non ti stampare Non è un buon momento per stamparsi E lei si fa le foto in costume da bagno Non è un buon momento per la mia Ma cosa che ha detto E lei si fa le foto in costume da bagno E lei si fa le foto in costume da bagno Ma cosa che ha detto Di me